16 gennaio 2012 preghiera di liberazione per la famiglia. Miei piccoli amici. Voi siete i piccoli figli della luce, i prediletti del padre, del figlio, dello spirito santo e di Maria Santissima. Siete chiamati alla via di infanzia spirituale e siete chiamati a seguirmi gioiosamente, perché io voglio la vostra gioia presente e futura. So che vi è difficile essere gioiosi, perché avete tante prove da affrontare e spesso vi lasciate sopraffare dalla tristezza e dalla paura. Leggete con molta attenzione il mio santo Vangelo e vedrete che io non amo rimproverare i miei amici, che mi seguono, che cercano il regno di Dio. Sì, perché io sono infinitamente buono e misericordioso, ma ho rimproverato chi aveva poca fede, perché la fede in me vi dona la gioia. Voi potete essere felici oggi, perché dunque aspettare solo un'ipotetica gioia futura come molti di voi aspettano tristemente? La vostra tristezza non dipende da me e neppure dalle prove che trovate sul vostro cammino, ma dipende dalla vostra poca fede in Dio. Io sono la vostra gioia e io sono presente in voi oggi. Voi avete motivo di essere felici oggi. Qualcuno mi dirà che è impossibile e allora vi chiedo come fecero i santi ad essere felici anche nelle sofferenze? Voi mi direte che non siete santi e io replico siete in grazia? Se lo siete voi siete anime sante, chiamate alla perfezione e in cammino. Se vi intestardite ricordandomi i vostri peccati e le vostre miserie, ribadisco che io sono il buon pastore, che vi conduce personalmente. Volete ancora discutere con me o riuscite a credere che io tutto posso nelle anime a me consacrate? Credete che siete miei e io vi conduco nella mia via di salvezza? E allora perché tendete al ripiegamento su voi stessi? Perché vi lasciate vincere dalle tentazioni e dagli attacchi del nemico infernale, se credete che io sono sempre con voi e combatto insieme a voi le battaglie della vostra vita? Sono battaglie vostre e sono battaglie mie, perché la mia vita è vostra e la vostra vita vita è mia. Io ho vinto il mondo e voglio continuare a vincerlo e ne con voi. Io ho vinto il peccato e il potere delle tenebre e voglio continuare a vincere in voi e con voi. Io dimoro in voi insieme al Padre e allo Spirito Santo, perché, dunque, non credere e vivere nella potenza di Dio, che si dona a voi. Liberatevi dal potere del nemico, perché io vi ho redenti perché nel mio nome poteste essere sempre vittoriosi sul male. Nulla avete da temere se rimanete nel mio amore. Nulla deve essere causa di paura o di tristezza. Nulla può nuocervi, ma in ogni avversità combattete usando le armi di cui disponete. Rimanete nella mia grazia, cercate di crescere nella carità e pregate con fede. Sappiate che non dovete temere l'avversario. Egli è mentitore e vuole incutervi paura perché vi allontaniate da me. Non temetelo, ma combattete con la fede e con una vita retta. Credete che portate il mio sigillo, perché lo avete ricevuto nel Santa Battesimo ed è segno indelebile. Siete miei ed io vi difendo come pupilla dei miei occhi. Liberatevi dunque dalle oppressioni del nemico e pregate per liberare le vostre famiglie. Se siete anime rette, l'amore che avete per me santifica anche l'amore che avete per i vostri cari. L'amore serve a tutto e porta sempre benedizione, perché fondato su Dio e Dio e amore. Benedite i vostri cari, i vostri coniugi, i vostri figli, i vostri genitori. Benedite il vostro albero genealogico e chiedete perdono a Dio per i vostri familiari, che non hanno ancora risposto alla chiamata alla conversione. Fate preghiere di liberazione spontaneamente, invocando la potenza del mio nome, del mio sangue, della mia passione e quant'altro secondo le devozioni in uso nella Santa Chiesa Cattolica. O Madre di Famiglia, che regolarmente pulite la vostra casa, preoccupatevi di fare pulizia anche nelle vostre anime e nelle anime dei vostri cari per mezzo della preghiera. Credete forse che io non vi ascolti? Pregate, come sempre vi ripeto, insieme alla mia Santissima Madre. O Madre di Famiglia, se voi sapeste come è grande la vostra vocazione. Perché cercare sempre lo straordinario, anche nel cammino cristiano, quando anche questa è tentazione? Guardate alla Madre Santissima, che visse una vita così umile. Guardate a Lei ed imitatela, preoccupandovi non solo delle faccende temporali, ma soprattutto del bene eterno, che potete incentivare e ottenere per i vostri cari, che ancora non credono. E se in famiglia non siete l'unico angelo terrestre cuore puro, beate voi. Una coppia di sposi santi può incendiare di carità ben oltre ogni umana aspettativa. Pregate, dunque, con umiltà e carità con chi, nella vostra casa, condivide la vostra stessa fede. Se siete soli, invece, ad avere fede, non rattristatevi affatto e pregate credendo che la vostra preghiera per la conversione dei vostri cari è ascoltata ed esaudita. Aspettate pazientemente il tempo favorevole, così come io aspetto il tempo favorevole, in cui le anime si arrendono al mio amore. Preghiera di liberazione per la famiglia. Signore Gesù, io credo che Dio ti ha esaltato e ti ha dato il nome, che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Signore Gesù io credo in Te e umilmente mi prosro davanti alla Tua misericordia infinita. credo nella potenza del Tuo nome e chiedo umilmente di essere liberato da ogni vessazione diabolica. Il Tuo sangue preziosissimo scenda su di me e purifichi il mio cuore perché, liberato dalle tenebre io possa seguirti nella luce e proclamare la Tua gloria. Liberami da tutti gli ostacoli che impediscono l'unione piena con Te, perché la Tua volontà sia la mia e io possa compiere le opere che hai preparato per me. Che io possa servirti nella gioia. Signore Gesù, Tu che vuoi famiglie sante, porta liberazione e guarigione nelle anime dei miei cari perché insieme possiamo seguirti e servirti nell'edificazione del Regno su questa terra. Rinnova, nella mia famiglia, la grazia dei Santi Sacramenti, ricevuti dalla Tua misericordiosa buontà. Spezza le catene del male ancora presenti nei nostri alberi genealogici e colmacci del Tuo Santo Spirito. insegnaci a pregare e a obbedire alla Tua parola perché possiamo praticare lietamente la via della salvezza che ci hai ottenuto per mezzo della Tua santa passione. Per amore del Tuo nome, liberaci da ogni male e custodiscici, o Dio nostro. Infine, mio Dio, poiché la Tua bontà è senza misura apri nostri cuori all'accoglienza di ogni grazia che ci vuoi donare e accresci la nostra fede. Sappiamo che Tu ami scegliere i miseri peccatori come collaboratori ai Tuoi disegni e per questo diciamo eccoci, Signore, noi veniamo per compiere la Tua volontà. Tutto attendiamo da Te e sappiamo che non saremmo delusi perché il Tuo amore è al di sopra di ogni nostra speranza e per questo già da ora ti ringraziamo con la fiducia di aver ottenuto quanto richiesto e lodiamo il Tuo nome Santissimo. Concedici di lodarti da ora e per sempre, senza sosta, nella pace della Tua presenza e nella gioia dell'obbedienza alla Tua Santissima volontà. Sii sempre benedetto, Signore Gesù Cristo, unitamente al Padre e al Santo Spirito. Sia sempre benedetta Maria Santissima, nostra Madre. Pregate con il cuore, pregate con lo Spirito Santo. Pregate con il vostro angelo custode. Perché sentirvi soli quando non potete fare preghiera comunitaria? Voi non siete mai soli. Miei piccoli amici, continuate a praticare la via della piccolezza evangelica e non ponetevi quesiti troppo difficili. Il vostro Dio pensa a voi, voi pensate a Lui. Non è difficile come credete. Liberatevi dal vostro modo di pensare e confidate sempre nel vostro Dio, che vi ama. non giudicate secondo le apparenze e non andate in cerca di cose grandi, perché io sono con voi nelle piccole cose della vostra vita, che non è affatto banale, perché deve essere vita santa e lo è veramente nella misura in cui voi rimanete nel mio amore. Pregate dunque per essere liberati dalle insidie del nemico della vostra gioia. Pregate la Vergine Maria e donate le santi rosari pregati con il cuore. Ella vi ottiene e vi otterrà molte grazie. Miei piccoli amici, vi amo e vi benedico. IESUS